a e i bambini si no è romano i barani è molto casinano chiamo credo e che è di tau e è già ma non fa uli già mu è già non ti pergera è già mu che da già mu che da è già ti ko è già mu che da è già ti pergera di situ, è già ti pergera è panggil keluarganya è già ti ko è panggil keluarganya di situ è c'è panggil keluarganya è già ti pergera è già ti pergera è già ti pergera è già ti pergera no è e 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 hai 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 vostro tra i due tu non avi tu lu non è che chi tu, se tu, tu ti besi è un esempio che non fai farvi non è che guarda, non è che guarda non è che guarda, non è che guarda, non è che guarda non è che guarda, non è che guarda giù siano più guarda i guarda oh, si sono ho eh ah ah vici per la vita hai 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 ho se pende? dici ai bravo, non ho capito è iniziato io non ho appunto io non ho appunto ero iniziato 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 mi lascio ci sono no di cattano li qui sono riuscoli quindi farmi si farmi qui chi 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 no 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 hai attacchi 5 hai e 360 è Grazie a tutti! Fiii Sì Alla ho accubato Alla ho accubato Alla ho accubato Alla ho accubato Settacolo Alla ho accubato no Grazie a tutti.